... Grazie. 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 Grazie a me notte, c'è il corretto, con i blu davanti che tu ti volai. Ah sì, è vero, io ho fatto il raggio, ti ho combinato. Grazie a me, grazie a me. Era tutto preciso con tutti i suoi documenti dietro. Ah, lo zaino come noi, è uguale. Fibrillatore, zaino, barella. 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 Grazie. 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 I dottori che non sono da Cerea? C, 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 tu, in giù. C'è uno? Che vinto? Che vinto io? Si è morto e tu? Chi vinto? Vai, 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 lessalo di là. Vai, 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 vai. L'adattito! Lasci i lo dacci a chi la dà, lo dai. un pochino d'acqua ma dovranno ma dovranno un pochino 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 un pochino